Musica Musica Cari amici di Viaggi Molise, di Tele Molise, per le vie del Borgo, la prima edizione di questa grande manifestazione, tutta afrosolonese, continua, rimanete in nostra compagnia. Musica Antonella, una serata come questa, dove Frosolone offre piatti tipici della tradizione, artigianato, locale, ma anche tanto altro, cosa ne pensi? Beh sì, c'è un po' di tutto, comprende, possiamo assaggiare tante cose del paese, ci stiamo divertendo, c'è parecchio da vedere e da assaggiare. Ecco, dal tartufo alle carni, alla pasta fatta in casa con, non so, i fagioli, i cavatelli col maiale rossi, rispecchia secondo te l'identità culturale, culinare in questo caso di Frosolone? Beh sì, 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 sicuramente, anche perché parte dalle origini, quindi chi organizza e chi ha organizzato sa insomma quello che c'era del posto e c'è un'unione di queste cose e sta uscendo una bella serata. Cosa ne pensi, in ultimo, di questo centro storico che rivive in questo modo illuminatissimo e pieno di gente? Bello, bello, è la prima volta che lo vediamo così, è molto bellissimo con queste luci. Amici di Viaggi Molise e di Tele Molise, mi trovo in compagnia di due dei tanti membri dell'associazione Pro Frosolone, Luigi Fiani e Saverio Paolucci. Voi con la vostra associazione avete promosso questo evento e realizzato, avete curato nel dettaglio tutto, proprio per promuovere Pro Frosolone nei suoi aspetti più svariati, dall'aspetto culinario a quello culturale, paesaggistico e artigianale. Sì, veramente ci siamo trovati con Saverio e con altri amici nostri, abbiamo creato questo comitato, abbiamo avuto una riunione col sindaco che ha sposato la causa, diciamo che veramente è stato disponibilissimo. E in tutto questo siamo un gruppo di persone che ci siamo messi insieme, creando questo comitato Pro Frosolone insieme a altre associazioni, comunque anche la Pro Logo e tanti altri. E niente, c'è nata questa idea di promuovere il borgo, il borgo perché Frosolone merita, abbiamo un bellissimo borgo e nel borgo abbiamo coinvolto tante attività di Frosolone, anche qualcuna che è venuta da fuori per far conoscere Frosolone, per far conoscere il borgo perché è veramente bello. Ci siamo impegnati da circa due o tre mesi, stiamo lavorando, ma lavorando davvero per avere un bel risultato. E stasera possiamo dire che abbiamo avuto una grandissima soddisfazione, ma veramente tanta gente, come prima edizione siamo contenti, pensiamo di proseguirla ancora e ce la metteremo tutta per fare meglio. Forse qualche errore l'abbiamo pure fatto, però abbiamo fatto il possibile per non sbagliare, per dare il massimo alla gente che è venuta. Siamo soddisfatti di tutta questa gente, ma veramente tanta, tanta. Circa 50 list stand che si dividono tra l'enogastronomia, l'artigianato e la cultura, insomma. Bagno di folla, grandi numeri, siete soddisfatti come associazione organizzatrice dell'evento? Sì, siamo veramente soddisfatti. Noi ci aspettevamo perché abbiamo avuto una piccola esperienza quest'estate promuovendo un po' il borgo e ora il periodo di natalizio, adesso abbiamo insistito un po' ancora di più, coinvolgendo quasi tutte le attività. E devo dire che Frosolone ha risposto, ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno permesso di fare questo, ringraziamo veramente tutta la gente di Frosolone che si sono attivati tutti, anche nonostante le casalinghe, tutti, dai più piccoli ai più grandi, ci hanno dato una mano per fare una buona riuscita di questa manifestazione. Siamo soddisfatti, veramente bene. Il Comune di Frosolone come ha risposto all'idea di un evento del genere? Come le dicevo prima, il Comune ha sposato la causa e in maggior parte del mondo il Sindaco, che si è attivato in tutto quello che gli abbiamo chiesto e inoltre come amministrazione comunale ci hanno dato un contributo di 3.500 euro e più 1.500 proprio personalmente della sua indennità. Il Sindaco è stato molto contento di questo, ci ha dato tutta la disponibilità e credo che ce lo farà ancora perché lui capisce che per Frosolone noi facciamo tanti sacrifici, lui è il Sindaco e insieme collaboriamo. Abbiamo visto davvero una capillarità e una complicità tra le persone di Frosolone che contenti hanno proprio lavorato alla perfetta riuscita di questa festa proponendo piatti, sapori e gusti diversi. Ma come è nata l'idea di realizzare questo evento proprio qui nel Centro Storico? Noi l'abbiamo promossa perché Frosolone fa parte del Bandiera Arangione, uno dei borghi più belli d'Italia e giustamente ci riteniamo opportuno di promuoverlo, di farlo conoscere e come vediamo ci stiamo riuscendo perché sta tanta gente che è venuta da fuori, oltre a degustare i nostri prodotti che ognuno di noi ha fatto la sua specialità si sono complimentati del nostro borghi e veramente ne vale la pena visitarlo, li invitiamo anche domani sera e li aspettiamo calorosamente con tanti prodotti e con l'ospedalità del Frosolonese. Sono con Giovanni e Dada, Giovanni di Romada, di Frosolone, insomma una coppia che spesso torna qui. No, noi adesso viviamo a Frosolone, sono otto anni. Però avete trascorso il resto della vita proprio nella capitale. Sì. Ci hanno aperto le porte di Casaloro per mostrarci davvero un tesoro nascosto direi, un museo delle chiavi e di tanti altri tesori. Cosa custodite qui? Più che altro custodiamo la fedeltà delle persone, non quelle praticamente chiavi che sono degli usci, ma bensì delle persone che erano grandi e sono diventate grandi attaccate al muro. Adesso qui praticamente è un museo personale perché tutta questa roba si prende al mercatino, si compra e piano piano si fanno. Sono una bellezza di 40 anni che io metto da parte determinate cose, di cui una benevolenza di Garibaldi e la storia di Garibaldi su giornale, di cui ci sono anche mio suocero che ha fatto l'ultima guerra, poverello. E ci sono dei piatti molto bellissimi che sono dell'Ottocento, quelli erano di mio suocero. Allora, veramente tesori antichissimi, pezzi autentici. Signora, segue anche lei su marito in questa passione. Non tanto, sono sincera perché io li chiamo vassi da notte, sinceramente. Però sono belli perché a lui poi piace fare questo. Allora, vi sto dietro anch'io, dico va bene, fallo. Gli abbiamo dato questa stanza, è un po' piccola, ci vorrebbe una più grande però... Piano piano, piano piano, questa stanza dunque racchiude la storia, la passione, il divertimento. Sì, dei contadini, delle origini di Frosolone, tante belle cose ci sono però. Si è venuta tanta gente a visitarla e rimasta soddisfatta. Io ho queste cose qui rare di cui qui c'è addirittura lo stemma di Frosolone su questo ferro da stiro. E non è che è una cosa comune, è una cosa che incomincia a essere rara. Come praticamente qui c'è scritto anche cose rare, perché appositamente ci sono delle cose che sia la gente e che il comune soprattutto butterebbe. Per quale motivo? Perché questo qui è una tazza non comune, ma bensì è una tazza per chi è che ha i baffi, per prendere il tempo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.